Inus 3D Design Studio Inus 3D Design Studio è un'azienda che si trova a Pratislava, in Slovacchia, specializzata nella produzione di oggetti per single board computer prodotti attraverso la stampa tridimensionale. Inus 3D ci ha fornito un esempio della loro capacità manufatturiera presentandoci questo simpatico sistema che utilizza una SSD come supporto per il Raspberry Pi. Vediamo di che si tratta. Il kit si presenta abbastanza bene con un ottimo sistema di descrizione. Vediamo in che maniera possiamo accedere. Apriamo il nostro contenitore e vediamo cosa abbiamo all'interno. Sono una serie di pezzi costruiti evidentemente con una stampante 3D di fattura abbastanza buona almeno visivamente non sono assolutamente niente male. Apriamo la nostra SSD che l'avevo messo da parte e vediamo in che maniera possiamo accedere. Apriamo il sistema di vidi e bulloni ed eccoci pronti alla costruzione. Per risparmiare tempo ho provveduto a inserire le vidi negli alloggiamenti. da notare che le vidi hanno faticato un pochino ad essere inserite in quanto i pezzi sono veramente fatti bene quindi hanno una tolleranza molto bassa. Procediamo ad avvitare il supporto negli appositi fori dell'SSD provvedendo di stringere in maniera sufficiente ma senza forzare eccessivamente. Dopodiché provvediamo all'installazione dei supporti sui quali poggerà il nostro Raspberry Pi. Notare la smussatura che definisce un pezzo nello differenza dall'altro continuiamo il nostro sistema di montaggio che è tutto sommato abbastanza semplice a parte il piccolo problema dovuto alla tolleranza delle viti per il resto è veramente fatto bene. Questo è un altro pezzo definito dalla smussatura e lo mettiamo nella posizione in basso a destra vedete che la tolleranza è veramente bassa quello che vedete sullo sfondo è la nostra mascotta un biscotto un biscotto potrò presentarlo prima lo presento in questo momento ci ha assistito durante tutto il montaggio a lui piace molto ultimo pezzo vedete il supporto su cui poi verrà appoggiato il raspberry sono state fornite 6 viti da 3 4 viti da 2 a 9 autofilettanti per gestire la basetta e 4 viti più lunghe che verranno utilizzate qualora verrà richiesto anche il sistema di ventilazione attraverso un kit di livello superiore procediamo al controllo dei fuori installiamo come dobbiamo ciascuna delle viti sulla destra potete vedere il supporto già previsto nel caso del montaggio di una di una ventola offerta direttamente dall'azienda io avevo il mio raspberry pi 3 con un sistema di raffreddamento già pronto come vedete il montaggio non dà assolutamente problemi anche se vengono montati dei sistemi di raffreddamento non propriamente consoni non acquistati direttamente dall'azienda il che è un bene tutto sommato abbiamo quasi finito installiamo le ultime due viti una e una acqua abbiamo finito una stretta incrociata e voilà abbiamo terminato grazie per averci seguito controlliamo se tutto va bene e un saluto da Morawear e ovviamente da Biscotto mi amo cioè ciao